Qualche tempo fa, in tutto il mondo, è balzata agli onori delle cronache la cosiddetta particella di Dio, cioè il bosone di Higgs, al centro di un importante esperimento al CERN di Ginevra. Higgs, però, non ha mai chiamato così la sua particella. La storpiatura nasce in realtà dall'iniziativa di un editore. Preferì modificare il titolo di un libro divulgativo da la particella maledetta in, appunto, la particella di Dio. Higgs addirittura ne è dispiaciuto, perché teme di urtare la sensibilità dei credenti. Ma accostare un esperimento scientifico alla religione, a livello mediatico, funziona così bene che giornali e televisioni di tutto il mondo hanno riportato questa piccola falsificazione. È il segno che ancora viva l'antica lacerazione aperta un tempo tra scienza e fede. Ma chi fu ad aprirla? Cosa c'entra la riforma protestante? E soprattutto, cosa c'entra in tutto questo il mistero che per tanto tempo ha avvolto Saturno? La prima grande lacerazione avvenuta tra scienza e fede coincide con la nascita stessa della scienza moderna. Si tratta della condanna di Galileo. Dal punto di vista strettamente scientifico, è stato un errore madornale. Le autorità cattoliche non sono più riuscite a cancellarlo. Tra gli osservatori e gli studiosi di tutta Europa, inizia una gara per risolvere l'enigma posto dal più lontano pianeta conosciuto. Anche quelli che lo osservano direttamente con il telescopio descrivono ciascuno un proprio differente Saturno. Su Saturno viene poi proposta una spiegazione alternativa a quella di Huygens. Fabri elabora un nuovo sistema di satelliti particolari che orbitano non intorno al pianeta, non intorno a Saturno, ma oltre Saturno. Quindi coppie di satelliti chiari e scuri che ruotando con periodi scelti ad hoc sono in grado poi, se osservati dalla Terra, di spiegare queste strane apparenze. Era un'ipotesi tutto sommato possibile, ragionevole, ma la scienza chiede a chi fa delle ipotesi su dei fatti reali qualcosa di più della pura possibilità logica e immaginativa.